Quattro Sì, non è vero. Anzi, non è un po' di esercizio. No, ma la vita è Gilberto. Anche loro tutti i nostri spettatori hanno un'impendimento. E' un'impendimento. E' un'impendimento. C'è il caso di fare un lavoro per la campagna. La una un'impendimento. Si aveva un'impendimento, E' un'impendimento. Non si aveva un'impendimento. E' un'impendimento. E' un'impendimento. Che cosa? Come se? Mi piace? Mi piace? Ma non lo so... …to un'intera il suo figlio, non lo so... Mi piace? Mi piace? Mi piace? Mi piace? Mi piace? Grazie.